Con una solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Giuseppe Favale con la successiva processione tra le vie del quartiere Alberolongo Stadio di Trani si è conclusa la festa dedicata a San Magno Vescovo e Martire. Un'occasione per parlare anche della edificazione del nuovo Tempio. Quella di oggi è una testimonianza, soprattutto per una comunità che vuole fortemente un Tempio da edificare e da dedicare al culto di San Magno che tra l'altro è un santo tranese, anche se poco conosciuto dagli stessi tranesi. Sicuramente è un santo poco conosciuto. Io stesso ho avuto modo di sapere della sua esistenza per l'invito che mi è stato rivolto stasera a presiedere questa Eucarestia. è stato il secondo Vescovo di Trani e ha terminato la sua esistenza con il martirio quindi con la testimonianza suprema di amore a Cristo perché il martirio è il segno più alto di amore, di fedeltà verso il Signore Gesù. È vissuto nel III secolo, quindi lontano da noi nel tempo però con la sua testimonianza è di grande attualità perché sappiamo bene come oggi continua il martirio dei cristiani in tante parti del mondo per cui guardando a San Magno stasera il pensiero corre ai martiri dei nostri giorni tanti uomini e donne di ogni età, di ogni condizione sociale che subiscono persecuzioni proprio a causa del nome cristiano. E poi una parola, ecco, circa il nuovo Tempio che si deve edificare come mi ha chiesto poc'anzi lei, ecco, sicuramente è importante avere questo segno dove la comunità cristiana si ritrova il Tempio ha ragion d'essere perché è il luogo dove il popolo di Dio incontra il suo Signore, ascolta la parola di Dio, prega, sperimenta la bellezza della fraternità. Da sempre la Chiesa ha avuto questi luoghi e li ha curati, li ha resi sempre più accoglienti, li ha resi davvero un segno vivo della presenza di Dio nel territorio. E io auguro e auspico davvero che questa comunità parrocchiale di San Magno possa quanto prima vedere realizzato questo desiderio di avere tra le proprie case la casa di Dio, che è la casa della fraternità, della comunità. La festa di San Magno ogni anno ci consente di fare il punto della situazione. L'edificazione del Tempio come procede? Ringraziando Dio siamo a un buon punto, siamo quasi all'inizio dei lavori. Stiamo aspettando solo il permesso dei vigili del fuoco e poi dopodiché dovremo iniziare proprio la costruzione del nuovo complesso parrocchiale. Questo significa? I tempi, non mi sento di dettarli, ma certamente sono tempi brevissimi. Penso che certamente nel prossimo autunno inizieremo i lavori della nuova costruzione. Ed è un momento di festa per tutta la comunità? Beh, almeno per la nostra comunità e per coloro che condividono la scelta che il nostro arcivescovo ha fatto, certamente è un momento di festa. E poi sono le persone che partecipano a dire questo, non è che lo devo dire io.